Il Pro Favara dei record prosegue all'entusiasmante stagione anche in Coppa Italia. Gli undici di mister Filippazzo sabato scorso sul proprio terreno di gioco hanno conquistato l'accesso alla semifinale battendo ai calci di rigore il Montemaggiore. La compagine palermitana a Cerda nella gara di andata si era imposta per 1-0. Allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri di Favara, il Montemaggiore era riuscito, nonostante lo 0-0, a mantenere il vaddaggio che valeva il superamento del turno. Qualificazione però negata ai palermitani a 7 minuti dal termine dei 90 regolamentari quando l'arbitro, il signor Scarciotta di Caltanissetta, contestatissimo dai supporter gialloblu, assegna un calcio di rigore alla squadra di casa. Penalti affidato a Bennardo che dagli undici metri non sbaglia e per quanto riguarda il discorso qualificazione ristabilisce la parità tra le due squadre. Al triplice fischio finale in caso di equilibrio tra match di andata e ritorno, la formula della Coppa Italia a memoria all'Orazio Sino esclude la disputa dei tempi supplementari. Di conseguenza la semifinalista tra Profavara e Montemaggiore si è decisa ai calci di rigore. Per il Profavara nessun sbaglio dal dischetto, assegno rispettivamente con Fanara, Piazza, Priolo, Cordaro e Bennardo. L'errore decisivo per i palermitani è stato di Miranda. Il Profavara del presidente Rino Castronovo quindi completa il quadro delle squadre semifinaliste di cui fanno parte anche Serra di Falco, Dattilo e Gimini Cascordia. Profavara vinge ai rigori, una partita sofferta, a volte dominata ma con troppi errori. Errori relativi. Noi abbiamo creato qualche palla-gole, è chiaro che quando arrivi là davanti ho la bravura dei portieri, ho magari un po' la troppa fretta nostra e quindi ecco che il risultato fino a 10 minuti alla fine è 0-0. Però devo dire che il Montemaggiore ha fatto una grandissima partita in fase difensiva, si è difesa molto bene, molto ordinata e è chiaro che non è facile trovare gli spazi con le squadre che si chiudono così e così bene come ha fatto il Montemaggiore. Qualcuno ha lamentato l'assenza di Cutaia, perché non è stato schierato oggi? A parte che Cutaia non è stato schierato perché è infortunato, infatti l'ho provato prima della partita, però di quel qualcuno che si lamenta a me interessa molto poco. Io faccio le mie scelte, vado avanti per la mia strada, ripeto e ribadisco che questa è una squadra che va solo applaudita, invece i primi 10 minuti purtroppo questo qualcuno o questi qualcuno si sono permessi di criticare una squadra che gli ha dato tantissime soddisfazioni e sta continuando ancora a dare delle soddisfazioni. È chiaro che io i tivoti di Favara li conosco che sono eccezionali, sono stupendi, purtroppo c'è quell'individualità che magari viene solo per criticare e per divertirsi, ma io penso che oggi c'era Juventus-Inter, faceva meglio a vedere quella partita invece di venire qua ad uscire fuori dai luoghi. Momentaneamente chiusa la parentesi Coppa Italia, per il Profavara inizia il countdown campionato con l'atteso derby di domenica prossima in casa contro lo Sciacca, gara che qualora terminasse con una vittoria del Profavara o con un pareggio chiuderebbe in anticipo il discorso promozione in eccellenza. Per suggellare al meglio la vittoria del campionato e incitare la squadra nell'impresa, la società chiede per domenica prossima la presenza in massa dei tifosi.